Minecraft is the right game to you Minecraft mod is made Always no time to emancipate Ciao ragazzi, riccoci qua di nuovo su Minecraft Adesso sono andato a recuperare off camera Ho preso 4 lane Per farci un cazzo Perché non ho per il legno Porca vaca Devo prendere un poco di questo a l'invio Porca vaca Il giorno si usano può postarle la grazia tranquillamente Che non c'è nessun problema Su dai dai Ok Adesso Adesso faccio il nostro bellissimo letuccio No, ci sono mosse vicinanti la porca puttana Vaffanculo Vaffanculo Scheletro E muori Ah, si può dormire adesso Allora, mi ho detto che mi serviva 8 di queste 8 di queste E 1 di questa Ok L'hanno fatta la porta della Carpentry Ok Adesso facciamo così E Possiamo fare Del stesso colore del materiale Come vedete Come vedete Quello si mimitizza Ok Quello si trattiamo via Ok Ok Ah, buongiorno Scusi Scusi Lai ragno Buono da far Grazie Un bel giro Ecco c'è Buona carotte Nostra bellissima carotte Ok Qui c'è C'è il grano Per ce lo raccoliamo Ok Adesso ho visto Altro grano Qua Ci possiamo fare I super mega Panini Alte carotte E qua sono le patate Che le rimpiazziamo Ovviamente Potremmo faccio Anche una Vengono quattro Poi fa niente Ok Così possiamo Salire più Velocemente Ok Allora Questa qua Ce la possiamo Spiacicare qua Con carbona Quel cox Ok Facciamo così Ci cuciniamo Un po' che patate qua E un po' che patate qua Adesso ce ne devo Prendere Andiamo le patate Oh Bastardo Non fate Un buco In acqua Scopiato Maledetto Comunque Ci mettiamo Queste patate Cotte qua Ok Adesso io andrei A fare una piccola Visitina A quel Quello Il villaggio Aspetta Un momento Che Faccio Una cosa Molto saggia Ci prendiamo Il Workpoint Scriviamo Car Ok Fatto Chiediamo Gli occhietti Tiviamo Qua Qua Ok Possiamo Andare Andiamo Degostato Villaguetto Questo Dovrebbe Sare Quei Hanno Il Dungeon Sotto C'è Il Dungeon Cioè No Cosa Che avevano Cazzola Questo Della Towncraft Infatti Oh C'è Il Capitator Paglia Piena Vi aspetta Tre Anni Adesso Soprattutto Chissà Se Riusciremo A Eh Quanto Minutti Chissà Se I nostri Eroi Riusciranno A A Spizzagam E A Tagliare Tutto Quest'albero Con Unica Scetta Accetta Di Legno Boh Vedremo Adesso Quasi Tutto Vado a tagliarti dopo, non ho più una seta. Alto alboro della Towncroft. Ok, proviamo a salire, ho quello che mi serviva, poi vedo se ho altri piadini, spada, piccone di farlo, benissimo, ci freghiamo anche questa guai, ah no, non ci apriamo, lasciamo là, tanto, spostate, grazie. Voi mi servite anche dopo, bene. Ma avete della Towncroft del... No, non ci avete niente della Towncroft voi. Sì, ma li ha detto i porconi, ti ho appena fatto, giusto? Sì. No. Ho detto io da Towncroft. Poi c'è un altro fabolo. Vabbè, ragazzi, mi sa proprio che noi ci saluteremo qua e ci vediamo in un altro gameplay. Quella è la nostra casa. Allora... E niente, alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.